Con una pistola in pugno ha tentato di rapinare un fioraio che gestisce un chiosco a lato del cimitero comunale di Arezzo. Per il malvivente una 42enne sono ovviamente scattate le manette. L'episodio risale alla tarda mattinata di ieri quando il commerciante, un 41enne residente ad Arezzo, si è trovato di fronte a quell'uomo armato a volto scoperto che ha tentato così di portargli via l'incasso, a metterlo in fuga all'arrivo di altre persone. L'uomo si è così allontanato per le vie circostanti, ad avvertire le forze dell'ordine è stata la stessa vittima della tentata rapina. I militari nel pomeriggio di ieri hanno ritrovato l'arma, riconosciuta poi dal commerciante come quella usata per tentare la rapina. La pistola utilizzata dal malvivente e una beretta con la matricola brasa e con 14 cartucce sarebbe stata ritrovata all'interno di uno di questi cassonetti. Sono state poi visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza, dalle quali assieme ad alcune testimonianze i militari sono risaliti all'identità del bandito. Le ricerche sono poi proseguite nella notte e alla fine hanno portato ad individuare il responsabile, accusato di tentata rapina, detenzione, porto di arma clandestina e ricettazione. Il 42enne disoccupato e già noto alle forze dell'ordine è stato così arrestato e portato nel carcere San Benedetto di Arezzo in attesa della convalida del fermo. La pistola infine sarà esaminata dal racis dei carabinieri di Roma per capirne la provenienza ed eventuali precedenti utilizzi.